Parliamo adesso di gestione dei rifiuti, soprattutto alla luce di quanto accaduto a Roma l'incendio che ha semidistrutto l'impianto di trattamento meccanico biologico salario a nord di Roma. Lo facciamo in studio con Alessandro Bratti, a cui do il benvenuto, direttore generale dell'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Vediamo però prima il servizio di Matteo Parlato. L'incendio e il conseguente stop dell'impianto di trattamento meccanico biologico TMB salario di Roma mette la capitale nella necessità di trovare un nuovo sbocco alle 5-600 tonnellate di rifiuti indifferenziati che ogni giorno sono destinati a quello stabilimento, che si aggiungono poi alle 700 tonnellate di indifferenziata che Roma già esporta in condizioni di normalità. Nella capitale sono rimasti funzionanti tre impianti, uno dell'AMA, il gestore dei rifiuti, e due privati che ora devono smaltire ogni giorno le circa 2.600 tonnellate di indifferenziata. Il TMB converte i rifiuti urbani in speciali, un cambio di stato che permette ai rifiuti romani di essere esportati liberamente fuori regione, ma anche all'estero, per esempio in Portogallo o in Austria, dove sono andate 70.000 tonnellate di rifiuti trasformati in energie elettriche in un termovalorizzatore vicino a Vienna. E la spedizione dell'indifferenziata costa ai romani 136 euro a tonnellate. Allora, un rogo di rifiuti come questo, oltre a essere un grosso danno ambientale ed economico, è un evento che rischia di mandare in crisi il sistema di gestione dei rifiuti nella capitale? Certamente sì, perché è già un sistema molto fragile, come veniva riportato dal servizio. Roma esporta la gran parte dei suoi rifiuti, soprattutto quelli differenziati, verso l'esterno. Questi non sono impianti di smaltimento, sono impianti di selezione e di trattamento. L'equilibrio è un equilibrio da anni assolutamente molto fragile. Non esistono questi impianti di smaltimento necessari all'interno, vorrei dire, anche della regione. Di conseguenza, lo stop di questo impianto rischia davvero di creare qualche problema ulteriore. Che significa un'attività di mutuo soccorso, prima all'interno di Roma, della regione, e poi anche probabilmente forse da parte di altre regioni. Nel sistema della gestione dei rifiuti non si può non fare i conti con l'ossilità di chi risiede vicino alle aree di trattamento dei rifiuti come questa, perché ci sono state proteste per lungo tempo nei confronti dell'impianto del salario. Tecnicamente è possibile costruire degli impianti che non siano inquinanti e maleodoranti? Beh, diciamo che questo era un impianto particolarmente critico e tutte le indagini fatte, anche le recenti pronunce da parte dell'Arpalazio, dicevano che questo era un impianto addirittura aveva dei problemi a essere riautorizzato. Quindi sicuramente qui le criticità che manifestavano i cittadini c'erano tutte. È possibile sicuramente costruire impianti più moderni, più tecnologicamente avanzati, che abbiano un minimo impatto ambientale, però questo è assolutamente possibile, ce ne sono molti anche nel nostro paese. Nel sistema Italia, da molte regioni del sud, i rifiuti vengono trasferiti al nord, ma anche fuori dall'Italia. Ma questo è un sistema che è quasi saturo, in crisi? È un sistema che oggi rischia di essere praticamente saturo. Il problema è che al nord sono dislocati la stragrande maggioranza degli impianti. In totale gli impianti non sono nemmeno pochi. I risultati, tra l'altro, del recente rapporto sulla raccolta differenziata, ci dicono che il paese sta camminando svelto. Il problema è che c'è una quota di indifferenziato che da qualche parte deve essere smaltito. Gli impianti al centro-sud sono insufficienti, quindi il rifiuto viene dirottato verso il nord, ma il nord ormai è quasi saturo. E anche l'Europa comincia ad avere dei problemi, perché prima, mentre l'Olanda, la Germania, ma anche l'Austria, offrivano possibilità, oggi gli inglesi di fatti stanno saturando il mercato antieuropeo. Quindi c'è sempre meno spazio, per cui è necessario fare una riflessione sull'impiantistica del nostro paese. Dunque l'unica soluzione è abbattere l'indifferenziato, anche perché i rifiuti possono essere una risorsa importante. In Italia questo aspetto è sottovalutato. Guardi, io non credo, perché il nostro sistema imprenditoriale e le percentuali di riciclo e recupero per filiera, legno, plastica, vetro, sono dei buonissimi livelli. Per alcune di queste filiere addirittura siamo primi della Germania. Il problema è che anche per questo tipo di attività, la ricolta differenziata, l'economia circolare, che è il nuovo MAST che stiamo seguendo, sono tutti processi di natura industriale e hanno bisogno di un'impiantistica dedicata. Da noi oggi questo è diventato un problema. C'è un problema di accettabilità sociale dell'impiantistica e di fiducia sia nel sistema privato che nel sistema pubblico che ci si deve porre per poter realizzare questi impianti necessari anche per sviluppare tutto il MAST dell'economia circolare. Lei è da poco vicepresidente dell'Agenzia Europea dell'Ambiente, una nomina che rende l'Italia più forte a livello internazionale. Domani si chiude in Polonia la COP24. L'obiettivo è quello di ridurre il riscaldamento globale. Che aspettative ha? Ma guardi, se venissero mantenuti gli accordi di Parigi e se ci fossero azioni concrete in quella direzione mi riterrei già abbastanza soddisfatto. Per quanto ciò che ci indica l'IPPC, il panel di esperti, ci dice che anche quegli obiettivi rischiano di non essere sufficienti per evitare problemi legati al cambiamento climatico. Sono un po' scettico anche perché su tutto il tema del carbone, su cui si è discusso molto e come si sa il carbone è una fonte primaria fossile che provoca molti gas climalteranti per la sua combustione. qualche volta viene messo in discussione, qualche volta ritorna in auge. Lo stesso Paese ospitante che purtroppo sul carbone punta molto dal punto di vista dello sviluppo economico è molto riluttante ad effettuare politiche di riduzione dell'utilizzo di questa sostanza, di questo combustibile fossile. Quindi sicuramente come sempre ci saranno delle problematiche perché i Paesi sono in condizioni assolutamente diverse. Ripeto, credo che si debba anche lavorare molto sul tema dell'adattamento climatico perché queste previsioni climatiche così catastrofiche si pensavano si realizzassero più nel futuro. In realtà quest'anno abbiamo fatto noi come Ispra consegnando una serie di dati all'Organizzazione Mondiale Europea della Meteorologia. Abbiamo visto che dagli anni 60 ad oggi, ad ottobre, in realtà è stato l'anno addirittura più caldo degli ultimi 50 anni. Per cui è tutta una serie di situazioni che si stanno manifestando con un'accelerazione tempistica. Per cui non si può far finta di niente. Bisogna lavorare molto sul tema adattamento, cercare di mettere in campo politiche per, in un qualche modo, contrastare questi fenomeni. Ringraziamo Alessandro Bratti, direttore generale dell'ISPRA, per aver risposto alle nostre domande.